Piano per il salvataggio Oti, il progetto sembra già tramontato. Abbiamo fatto due giornate di lavoro a Esernia con il prefetto, soprattutto col presidente del tribunale Enzo Di Giacomo che è stato e con le parti chiaramente interessate e con tutti i parlamentari molisani. Ci sono sicuramente delle difficoltà oggettive sia per quanto riguarda i finanziamenti da parte della Regione e quindi della Comunità Europea per un eventuale salvataggio Oti e chiaramente ITR. Ci sono dei documenti che stanno al vaglio della Regione, dell'assessore Carlo Veneziale. È una cosa molto difficoltosa sicuramente e dovremmo capire adesso se c'è uno spiraglio per poter fare questo salvataggio insomma in estremis perché sembrerebbe che poi il 30 di giugno ci sia il fallimento della Oti e dell'ITR. Ecco, l'assessore Veneziale ha auspicato una interlocuzione ministeriale. A suo avviso è possibile questa strada? Sì, anche se credo che l'interlocuzione ministeriale doveva essere fatta molti anni fa, insomma, non arrivare forse a questo punto. Sicuramente, insomma, degli errori forse in passato sono stati fatti senza dire, insomma, da parte di chi, però voglio dire che è stata tutta una vicenda abbastanza complessa, sono passati comunque circa sei anni da questa vicenda e adesso sì, sicuramente tutto si può fare, tutto si può tentare, pure noi come Confindustria ci siamo messi a disposizione per trovare il nostro sistema di Confindustria con il sistema Moda Italia dove fanno capo le maggiori aziende italiane sul tessile una soluzione con uno o più imprenditori che possono essere interessati al know-how di queste maestranze che ci sono qui eserne. È chiaro, insomma, è da pensare che oggi come oggi un imprenditore che viene a rilevare un'azienda dei numeri a livello di persone che c'erano nell'ITR è impensabile, non esiste in Italia e non esiste in Europa. Si può trovare qualche imprenditore o più imprenditori che possono rilevare 50-60 maestranze perché hanno delle specificità e quindi tutto è possibile, però i tempi sono molto molto stretti.